Oggi abbiamo avuto Sassforum a Milano con più di 2000 partecipanti e siamo partiti da temi alti, parlando di metamorfosi, innovazione, trasformazione, ma in realtà poi portando casi concreti con i nostri clienti che stanno applicando l'innovazione per trasformare i propri modelli di business. Questo secondo me è il risultato più bello, vedere esperienze vere nella mobilità, nel finance, nel mondo della farmaceutica, della medicina, della trasformazione dei cibi, messe scaricate a terra come progetti reali e concreti. Oggi pomeriggio con Sassforum abbiamo voluto trasformare l'evento. Sono stati tanti eventi all'interno dell'evento principale di Sassforum, parlando di intelligenza artificiale, di marketing, di rischio, di frodi, ma anche con una partecipazione numerosissima di giovani che hanno portato le loro esperienze nell'applicare le nuove tecnologie. Un momento unico per me, vedere tanti giovani insieme, riuniti nelle sale, a raccontare i loro progetti. Questo è Sassforum, che riusciamo a fare grazie ai nostri clienti e ai partner che lavorano con noi. Una grandissima giornata, bella, di innovazione, sperimentazione, ma anche di progetti concreti.